ben trovati, ben trovati ad un nuovo video firmato fabioambrosi.it questo non è un tutorial ma è un brevissimo video per rispondere a un po' delle tante domande che stanno giungendo ad info.fabioambrosi.it sul progetto di un corso a distanza dedicato a Premiere Pro il corso a distanza di Premiere Pro è un corso che si terrà su Skype o su Zoom a seconda del mezzo che è un po' più pratico a tutti quanti è un corso che vi insegnerà ad utilizzare Premiere Pro anche se non l'avete mai utilizzato in vita vostra la differenza rispetto ai video tutorial gratuiti che trovate qui su YouTube anche sul mio canale è che sarà interattivo quindi non dovrete ascoltare me che parlo per un'ora su un argomento ma ovviamente potrete fermarmi, fare domande o meglio ancora provare voi stessi condividendo lo schermo il corso a distanza di Premiere Pro purtroppo non lo posso fare gratuitamente quindi avrà un piccolo costo di partecipazione di 350 euro la durata sarà di 20 ore probabilmente ci vedremo il mercoledì sera e il venerdì sera oppure il mercoledì sera e il sabato sera a seconda della disponibilità di chi parteciperà vedremo non solo come si importa un video ma anche come si organizza un video impareremo a creare una timeline a montare effettivamente quindi tagliando, incollando, spostando blocchettini di materiale per dare una forma a quello che è il nostro progetto multimediale ovviamente vedremo gli effetti video, ne parleremo in maniera un po' più approfondita parleremo degli effetti audio, vedremo come integrare Premiere Pro con Audition per creare un suono un po' più professionale vedremo, questo è molto importante, come integrare Premiere Pro con After Effects per creare dei semplicissimi titoli o sottotitoli o sottopancia o comunque materiale grafico che possa servirci, possa servire al nostro progetto e ovviamente parleremo poi dell'export e chiaramente ogni lezione vi permetterà di fare domande, interagire, condividere lo schermo ma non solo avrete a disposizione anche una email per un totale di tre mesi che potrete utilizzare anche quando il corso sarà finito per inviarmi domande a cui io chiaramente darò la massima priorità nella risposta se volete restare aggiornati e sapere quando inizierà la classe e volete pre-registrarvi potete inviarmi una email a info-fabioambrosi.it oppure venite sul mio sito internet www.fabioambrosi.it in alto c'è il bottoncino contattami e lì potete inviarmi anche un modulo per pre-registrarvi al corso se vi fa piacere commentate questo video se avete delle domande magari a cui possa rispondere al volo direttamente qui su YouTube condividete questo video con chi magari tra i vostri amici possa essere interessato spero di vedervi in tanti al prossimo video tutorial e alla prossima lezione ciao